Di Letta Leotta Gianni Aman, il dettaglio bollente, quanta passione. La coppia Di Letta Leotta Gianni Aman si è divisa qualche settimana fa, la verità sull'amore e sul matrimonio finto. La conduttrice di Dazon ritorna a parlare del vecchio amore con l'attore turco. Di Letta Leotta e Gianni Aman ormai da mesi si sono lasciati. Il rapporto è durato a lungo, per certi versi, ed è stato anche travagliato. Durante la relazione la coppia ha dovuto affrontare diversi momenti difficili a causa di indiscrezioni, presunti tradimenti e tante malelingue. La presentatrice siciliana qualche volta ha anche alzato la voce per cercare di difendere il suo rapporto con l'attore. Poi qualcosa si è rotto e l'amore è finito. Di Letta Leotta ha spiegato alla trasmissione Verissimo il motivo della rottura con Yamane e quella retroscena sul matrimonio. Di Letta Leotta su Gianni Aman, matrimonio finto? La verità è. In un'intervista Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Di Letta Leotta ha svelato alcuni retroscena della relazione con Gianni Aman, che ormai fa parte del passato. I due sono stati legati sentimentalmente fino a quest'estate, poi la rottura e l'addio definitivo, ognuno per la sua strada. Stando a quanto rivelato dal volto del calcio italiano, l'amore con l'artista non era affatto finto. Non era una storia falsa, come si fa a pensare ad una cosa del genere? Ha tuonato Leotta in tv, è stato un sogno, una favola di due ragazzi di trent'anni che si sono incontrati e amati profondamente. È stata una passione enorme, vissuta intensamente, è stato molto bello. Ma non è tutto. Negli ultimi mesi si parlava addirittura di un matrimonio che secondo alcune voci era orchestrato per far parlare di sé. Invece, Di Letta svela un dettaglio, il matrimonio era vero. C'è stata la proposta dopo appena un mese di frequentazione.